il grillo con questa canzoncina della pagina 12 abbiamo finalmente un brano carino di una certa complessità quindi insomma interessante non eseguirò le due mani separatamente perché la melodia di questa piccola canzone passa continuamente da una mano all'altra e quindi suonando con le mani separate non si riuscirebbe a capire a percepire qual è il senso musicale di questo brano per questo suonerò direttamente con le due mani insieme cosa dobbiamo guardare prima di partire quale è il numero scritto qua sopra visto che è il numero 3 io dovrò contare nella mia mente continuamente fino a 3 1 2 3 1 2 3 perché queste sono tutte note nere che contano un numero ciascuna 1 2 3 1 2 3 una cosa nuova che troviamo qua in fondo è questo piccolo simbolo questa specie di freccia che si chiama accento l'accento indica che questa nota deve essere suonata con un pochino più di forza deve essere una nota che si sente un po di più rispetto alle altre quindi quando io vedo questa frecciolina sopra a una nota premo il tasto con più energia in maniera che si senta il suono un pochino più forte un altro simbolo nuovo che troviamo sempre qui in quest'ultima battuta è questo qui ce ne sono due queste sono pause cosa indicano le pause indicano un momento in cui non devo suonare la musica è qualcosa di estremamente preciso e non solo le scritture la scrittura musicale mi indica quando devo suonare che cosa devo suonare con quali dita e tante altre cose ma mi indica anche il momento in cui io non devo suonare perché io devo sapere con precisione in ogni istante se devo suonare e se invece non devo suonare queste che sono pause mi indicano appunto che qua io non devo suonare nulla la mia battuta anche se è una battuta nella quale devo contare fino a tre a una nota soltanto vuol dire che quando sono arrivato e ho suonato questa nota io ho finito non ho altre cose da suonare e lo capisco perché invece che note ci sono due pause nelle pagine precedenti quando eravamo veramente agli inizi avevamo tante cose nuove a cui pensare che nota è quella che devo suonare quanto deve durare quanto devo contare devo suonarla con la destra con la sinistra con quale dito qual è il tasto che devo suonare erano molte cose tutte insieme quindi aggiungere anche le pause sarebbe stata una complicazione in più che al momento poteva essere risparmiata visto che andando avanti diventiamo via via sempre più bravi possiamo aggiungere qualche indicazione in più e questa indicazione in questo caso è proprio la pausa quindi questi due simboletti mi indicano continuo a contare uno due e tre ma mentre sei su due e tre non suonare niente ne scopriremo di più anche nei brani successivi dove le pause verranno riprese con un pochino più di dettagli suono il grillo dall'inizio alla fine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti